mister ghigliazza un grandissimo risultato di prestigio contro il savone in pratica la partita perfetta avete difeso bene siete stati ordinati in campo avete sfruttato le occasioni che avete creato insomma tutto quello che ci vuole in questa categoria specie contro un avversario come il savone si è la stessa cosa che ho detto prima la partita ci serve la partita perfetta l'abbiamo fatta l'abbiamo fatta non solo a difendere ma anche a proporre qualcosa e poi loro sono molto forti quindi è chiaro che ti schiacciano e noi siamo stati bravissimi a soffrire veramente tanti complimenti ai ragazzi avevamo preparato bene la partita in settimana abbiamo fatto tutto quello che abbiamo preparato quindi non posso che essere soddisfatto dei miei ragazzi già dall'ingresso in campo sembravate crederci insomma non siete partiti con l'idea di essere battuti questo ha fatto la differenza avete sorpreso forse da questo punto di vista il savone è un'altra cosa che ho detto negli spogliatoi partiamo forte sorprendiamoli siamo una squadra giovane per scelta e dobbiamo essere sfrontati se siamo sfrontati mettiamo in crisi chiunque sono stati hanno fatto esattamente quello che gli ho chiesto come ho detto prima perché dobbiamo essere propositivi dobbiamo essere cattivi sfrontati e lo sono stati subito penso che dall'inizio abbiamo fatto vedere che noi in campo c'eravamo e volevamo esserci due vittorie su due questo format particolare della prima categoria un bel un bel avvio che vi può dare ulteriore slancio in vista di una stagione che come sappiamo è molto complicata due vittorie che ci servivano perché non avevamo ancora vinto in coppa avevamo fatto buone prestazioni ma non è arrivata la vittoria la vittoria è sempre fondamentale da entusiasmo ma sono solo due partite per quanto il format sia breve c'è ancora tanto da fare perché non ci si può distrarre un attimo con nove squadre non ci si può distrarre un attimo